Ben tornati amici del gameplay su Game Oversize siamo pronti a cominciare ad affrontare le missioni dello Shangri-La finalmente sono riuscito a raggiungere questo posto è stato anche abbastanza difficile stava messo un po a cavolo su una montagna però ci sono riuscito e partiamo subito guarda che belli questi dipinti o disegni quello che sono cuciti boh non lo so eccoci qua nelle vesti del vecchio guerriero ma vanno al contrario quelle è un bel gascardo Che spettacolo, ma guardate questa cascata al contrario con questi massi che si muovono, queste missioni far creuato dai del massimo dei design. Ok, una caverna, oh l'arco, svolchiamo l'arco nello Shangri-La, ottimo, ah quell'arco che abbiamo usato quando abbiamo ucciso, aiuto. Sì, sì, è proprio quello che rallenta il tempo, spettacolare, wow, che arco, fighissimo, le frecce le abbiamo prese, sono infinite, non si può vedere, oh, qua è molto buio, ecco i fuochi. Sopra c'è l'acqua, bellissima. C'è qua, brilla, vedo a brillare, vedo. No, le frecce, ha 49 frecce. Vabbè, basta e l'avanzano, penso. Potrebbe mancare la tigre che combattere con noi. Ma non sono sempre troppi questi demoni. Vabbè, con l'arco. Oh, ragazzi. È fuori? Bella. Vediamoci, ah, un dito è rotto. Ai ai ai. Tigre, sei moruta? Ma... Come posso morire adesso, tigre? Alza dei combatti! Oh, ma qua sono infiniti sti cosi. Tigre! Bene, alle spalle. Bene, arrivere. Tornata. Ok, possiamo andare, sono finiti. Guarda che bello, l'acqua va sopra. È qualcosa di eccezionale. Bellissimo, ragazzi. Cioè, a chi ti vuoi a Far Cry consiglio di girarlo, perché è veramente un'esperienza molto bella, visiva e bellissima. Andiamo avanti, andiamo avanti. Perchè, tigre? Oh, mi hanno visto. Oh, questi sparano pure loro, ma. Mi tocca pure i nostri. Brava tigre. Brava di brutta mia. Non so, andiamo. Non essere triste, tigre. Wow. Perchè, se pensare che forse questo qua è sangue, è un po' inquietante, eh. Non è così onirico come sembra. Ragazzi, qua c'è anche tanto da esplorare, ma non mi posso mettere a esplorare tutta la mappa così. C'è veramente tanto, eh. Molto grande le armamentazioni. Ok. Tigre attacca! Vi devono stare in chiesa! S Pierre Gnah. Dove sono? Andiamo andiamo andiamo. oh mi stanno non lo vedo ragazzi perché è tutto sfogato cos'è successo forse le loro frecce ci hanno stai fretto qua non saprei oh non cadi eh non cadi proprio devo stare attento qui ole preso sharkhan vai qui bene bene morto ottimo dove dobbiamo andare qui qua alle sopra di sopra come ci arrivo lì sopra aspettiamo qui vedo tanti nemici guarda questa lì da lancio qui sì perfetto oh cura 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 curiamoci qua non è più di niente dovremmo trovare le ruote quelle da girare quelle fanno aumentare la vita bene preso c'è un'arma fantastica allora come lo raggiungiamo senza un po' difficile vediamo cosa possiamo inventare allora in teoria servirebbe un rampino che non c'è però noi continuiamo a guardare tutti vediamo cosa troviamo allora siamo qui sotto ah no ecco si è attivato adesso quello andiamo andiamo ah quello cos'era poi rimaneremo sempre con il dubbio oppure questa porta ci porta lì sopra facile infatti ecco lì qui liberiamo il tempio wow oh bellissimo bene così mi piaceva fuori ah se le parte a morire sono assurre troppo chi è come stanno aia eh che pericoloso che pericoloso meglio allontanarsi devi andare davanti al tempio non si apre si wow ragazzi è un'emozione l'arco il nostro flash muori che animali sono ma che brutti animali sono ma raga fanno senso ma che cos'era ma cos'era un cane spettrale mamma mia per te l'ha voluto allora dove devo andare qui nel tempio andiamo saliamo ci lanciamo raggiungi la campana dell'illuminazione ottimo osti cani non l'ho ucciso peccato oh madonna ho fatto l'uccisione che erano 50 metri ma non è morto probabilmente è morto aia 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 sharkhan dove stai tigre ma quelli esplodono quei cosi aia aia qui stiamo ma quei cosi esplodono non riesco a usare il bottellino no peccato aia guarda dove posso sparare al campo questo ma matto facciamo fuori questo bene così stiamo pure crepando stiamo spingi le fiamme e curati abbatti no no così moriamo così giustamente però mi ero curato mi ero e basta sti esseri immondi e dai natro sharkhand 2 sharkhand esisti sono troppi curati nooo era arrivato lì davanti era arrivato lì davanti nooo ma dai è impressionante liberiamo sto coso qua ecco infatti sto perdendo tempo con quelli oh eccola guarda che bello eccola guarda che bello uh cos'è wow è finisce così ci fanno vedere cos'era no peccato ragazzi peccato ok secondo pezzo messo ragazzi eh sono abbastanza tanti quindi almeno altri tre sono vabbè allora noi ci sentiamo per la prossima missione dello Shangri-La ciao a tutti